Benvenuti signore e signori, street photographer o aspiranti tali e fenauti o ancora un po' indecisi. Oggi faccio un video un po' più chiacchierato, per certi versi sarà un video più disteso e invece per altri un video un po' più personale, perché quando ho aperto questo canale mi sono fatto e vi ho fatto una promessa, e cioè non nascondermi mai. Perciò mettiamoci comodi e scopriamo tutto quanto dopo la sigla. Grazie a tutti. Non è mai facile iniziare un video, soprattutto con una intro che spacca, come consigliano i migliori comunicatori. Di idee ce ne sono sempre un milione, però organizzarle in una singola puntata di una decina di minuti non è mai semplice. Soprattutto perché questo canale nasce con un'idea ben precisa, che non è quella di diventare io una persona famosa oppure a crescere la mia autostima attraverso qualche follower oppure qualche like in più. L'idea di questo canale in realtà è provare a dare importanza a tutti quanti quei fotografi che le altre pagine lasciano indietro, perché sono fotografi con meno hype oppure perché sono fotografi meno affascinanti. A me frega veramente molto poco di parlarvi di obiettivi, macchine fotografiche oppure verità storicizzate, come le ha definite qualcuno. E non mi piace farlo perché non mi interessa aumentare l'engagement e raggiungere più persone possibile. Per tutte quante queste cose ci sono altri posti e probabilmente qualcuno è anche migliore rispetto a questo piccolo studio. Ma a me in realtà interessa restituire a voi tutto quanto quello che io, grazie a dei veri maestri, ho avuto la fortuna di ricevere. E mi riferisco a tutti quanti quei professionisti che non si sono mai nascosti dietro a un titolo, che nel nostro campo, nella nostra nicchia dalla street photography, è spesso un titolo autoattribuito. E così capita che in settimane come questa passata, invece di lasciarci andare in dibattiti costruttivi, ci siamo ritrovati sommersi da polemiche sterili oltre che polemiche inutili. Per non parlare anche dei commenti fuori luogo, che hanno lasciato il segno un po' su tutto, dal nostro canale, sulla nostra pagina Instagram, passando anche per la fanzine e per toccare, infine, anche la stessa community. E allora mi sono chiesto, ma com'è che possiamo uscire più forti da momenti così? E lo scopriamo insieme in questo video, che sarà forse più lungo del solito, ma che di certo sarà più lungo rispetto a quello che la gente vorrebbe. La tempesta di questa settimana mi ha portato a riflettere su una perla di saggezza di Buddha, che calza a pennello con quello che è successo. Immaginatevi, infatti, Buddha che sta lì a parlare sereno come sempre, mentre uno sconosciuto passa e ci va giù pesante con gli insulti e lo fa davanti a tutti. Buddha però, con la sua solita serenità, non reagisce. Non ha nessuna reazione scomposta, calma piatta, come sempre. Ecco, un discepolo, incuriosito da tutta questa tranquillità, gli chiede ovviamente delle spiegazioni. E Buddha gli risponde, sempre in maniera molto pacata, con una domanda molto semplice. E gli chiede, e se qualcuno ti regalasse un cavallo e tu non lo accettassi? Ecco, il cavallo di chi è? E l'allievo, dopo averci pensato un attimo, capisce e risponde che il cavallo effettivamente sarebbe rimasto a Buddha. Ecco, allora, qual è la morale di questa favola? La morale è che gli insulti, così come il cavallo non accettato, restano di chi li ha pronunciati se scegliamo di non farli nostri. Vi ho raccontato questa storia, questa leggenda, perché mi ricorda che il potere di lasciarci ferire dalle parole degli altri è una scelta, è una nostra scelta. Molto spesso chi lancia fango e ingiurie sta soltanto proiettando su di noi le proprie insicurezze e le proprie frustrazioni. Di fronte all'offese tutti quanti abbiamo di fronte due strade. Possiamo assorbire le offese lasciando che ci intacchino e ci feriscano, oppure possiamo lasciarle andare, possiamo lasciarle cadere permettendo che le parole rimbalzino via e continuare così a concentrarci soltanto sulle cose che per noi sono veramente importanti. E quindi ricordatevi che quando le parole non trovano presa diventano un fardello per chi le ha pronunciate e non per chi le ha ricevute. Ricordiamoci tutti, sempre, che nella nostra passione della street photography, così come anche nella condivisione delle storie, incontreremo sempre delle resistenze e delle critiche, ma la decisione di permettere a queste critiche di influenzarci è soltanto nostra. Continuiamo perciò noi a concentrarci sulle nostre passioni, sulle nostre creazioni, sulle nostre fotografie e sulla bellezza che riusciamo a catturare attraverso i nostri obiettivi, lasciando da parte tutto quanto il resto. Ed ecco perché tutta quanta la valanga di parole, e non tutte quante carine ovviamente, delle ultime settimane mi ha spinto a parlarvi oggi non soltanto di fotografia, ma di qualcosa che se anche indirettamente influenza però tanto il nostro modo di vedere il mondo attraverso l'obiettivo. E questa cosa è la nostra community, perché ammettiamocelo, in un mondo dove la nostra arte, le nostre fotografie si intrecciano strettamente con la sfera social, il benessere della nostra community può realmente delineare la strada verso nuovi orizzonti creativi. Questo è il motivo per cui mi chiedo sempre come possiamo costruire insieme uno spazio che alimenti non soltanto la nostra arte, ma anche il nostro spirito. E mentre mi sento effettivamente un vecchio monaco Shaolin nel dire una cosa del genere faccio però a voi la stessa domanda, sperando di leggere nei commenti tutte quante le vostre risposte e tantissimi i vostri suggerimenti. E anzi ne approfitto ovviamente per chiedervi di scrivere nei commenti cosa pensate senza nessun tipo di censura e ovviamente però iscrivetevi anche al canale e mettete like. E nel video di oggi esploreremo insieme proprio come le nostre interazioni online e il sostegno reciproco possono non soltanto arricchire la nostra esperienza di fotografi, ma possono anche spianare la strada verso una community più forte, una community più coesa, più ispiratrice. L'universo digitale in generale è il luogo dove il concetto di community è imperante, regna sovrano il concetto di community, o almeno così ci piace credere. Però sapete tutti quanti ormai che sono un po' dissacrante e sono anche poco propenso a toccarla piano. E perciò proverò anche oggi a sfatare qualche mito e svelare la verità nascosta dietro i termini di community, di audience e di follower. E quello che scopriremo insieme rischia anche di ribaltare completamente la nostra percezione di questi spazi digitali, che si sono persi purtroppo nel tragitto tra un threads e una storia su Instagram. Vi lancio una sfida, una provocazione che vi chiedo di non ignorare. Quante volte effettivamente vi siete sentiti, vi siete imbattuti nel termine community navigando online? E quante volte vi hanno chiamato community frequentando una pagina oppure un canale YouTube? Personalmente scommetto che vi è capitato tante volte, forse anche troppe, perché pare che tutti quanti ambiscono a diventare un influencer e tutti quanti, anche con il più modesto dei seguiti, si proclamano capi di una community. Però altro non è che una audience, perché quando iniziamo a scavare più a fondo ci accorgiamo che molto spesso dietro non c'è niente di concreto, oltre ovviamente la spunta blu a pagamento. Ecco perché c'è tanta tanta confusione. Capire che cos'è un pubblico, una audience, è oggettivamente molto semplice, perché sono tutte quante quelle persone, quei follower, che seguono i nostri contenuti, perché magari abbiamo il dono di raccontare delle storie meravigliose e nella nostra nicchia siamo anche capaci di scattare delle fotografie sensazionali. Ma la community invece, che cos'è? Ecco qui la storia prende una piega completamente diversa, perché una community vera e propria ha radici più profonde, ha dei legami che vanno oltre un semplice mi piace e il follow. In questo video voglio scoprire insieme che cosa significa realmente costruire questi legami, questi ponti tra anime affini che condividono più di un semplice interesse, ma condividono proprio un percorso di crescita. La linea che divide un pubblico da una community non è soltanto una questione di semantica, perché si tratta di due filosofie di vita che sono completamente differenti. Sono due modi di vivere il mondo digitale che a loro volta riflettono due facce dell'essere umano. Un pubblico che fa si aggrega attorno a un marchio, a una voce che è capace di informare, di intrattenere e anche di persuadere. Mentre invece una community si forma attorno a una causa, a una passione ardente, a un sogno che ci unisce. Ed è proprio qui che nasce la magia. Nel dialogo del dare e del ricevere, nel costruire insieme qualcosa che trascende l'ordinario e che segna tutti profondamente. In ogni vera community il principio fondamentale è dare prima di ricevere. E sono felice anche che altri canali e altre pagine, guardandoci, abbiano finalmente capito la differenza, o almeno quasi. Si tratta nella community di condividere valori, passioni, sogni e non si limita tutto quanto a un like su un post. Ma si manifesta in realtà nelle lunghe discussioni nelle nostre live del giovedì sera, per esempio. Oppure si manifesta sul motivo per cui una fotografia rappresenta non soltanto una scelta estetica, ma è un manifesto di autenticità personale. Si manifesta, per esempio, nel motivo per cui la nostra fanzina ha troppo testo. Oppure ancora la nostra pagina Instagram, ma nelle stories, tutti quanti i fotografi della community. Ecco dove le community rivelano la loro vera essenza, nella co-creazione. Non si tratta semplicemente di consumare dei contenuti, ma si tratta di unire le forze per creare, per crescere e per imparare tutti quanti insieme. Human to human, non mi stancherò mai di dirlo. Sì, sicuramente impareremo a crescere come street photographer, ma cresceremo anche come persone. E questa cosa accade dalle piccole iniziative, come un repost, fino al supporto reciproco in momenti di dubbio oppure di esultanza, come è stato F-Festival. E la differenza si sente, si vive. E questa non è magia, perché è la vera essenza di una community. E si manifesta nella sua capacità di ispirare, sostenere e far crescere ciascun membro verso orizzonti che da solo non avrebbe mai osato immaginare. F4 è un processo lungo, che ha richiesto un anno prima di concretizzarsi. Un anno per creare questo ambiente che incoraggia l'incontro, lo scambio di idee e soprattutto che alimenta quel senso di appartenenza che ci fa sentire tutti quanti a casa. Quindi, se domani sentirete qualcuno vantarsi della propria community, voi potete fargli una semplice domanda, e cioè, che cos'è che create insieme? E se la risposta si limiterà in qualche preset di Lightroom, beh, avete già capito la differenza e sapete già di che cosa si tratta veramente. E detto questo, non penso ci sia più altro da dire. Però prima di salutarvi, voglio condividere qualcosa che ho imparato nel corso degli anni. Qualcosa che ognuno di noi dovrebbe considerare prima di relazionarsi con gli altri, soprattutto nel mondo dei social. Questo canale F4 è nato dal mio amore per la fotografia di strada, ma prima ancora dall'amore per tutte quante quelle persone che vengono trattate come invisibili in questo settore e con cui condivido però la stessa passione. È un amore che è arricchito da esperienze, da fallimenti che hanno segnato tutta quanta la mia vita, anche in ambito creativo. Quello che posso assicurarvi è che non esiste una bacchetta magica o una scorciatoia per il successo in fotografia così come nella vita, a dispetto di quello che i guru pensano di regalarvi oppure di vendervi. Come voi affronto anche io tante difficoltà. Quando apro Instagram, per esempio, mi sento sempre più insoddisfatto dei miei traguardi e allora vi guardo, vi ammiro, imparo da voi, mi chiedo perché, come fate. E ecco, anche voi, la motivazione che dovrebbe spingervi a continuare a fotografare non dovrebbe essere l'insoddisfazione o la ricerca del successo, ma il desiderio di raccontarvi attraverso la vostra macchina fotografica, il piacere di farlo e il desiderio di migliorarvi attraverso questo mezzo di comunicazione che è la fotografia, che è la nostra street photography. Quello che ci lega in questa community di F4, attraverso questo canale, attraverso la pagina Instagram e anche la fanzine, è semplicemente un esempio per navigare meglio in questo mondo. Magari risparmiare un pochettino di tempo evitando qualche errore, ma niente di più. Vivendo io anche dall'altra parte del palcoscenico, vi assicuro che molti fotografi, anche apparentemente al culmine del loro successo, sono profondamente insoddisfatti perché sono intrappolati in un ciclo continuo alla ricerca di risultati costanti, di un nuovo post, dei prossimi like e dimenticano così il piacere che li aveva spinti a iniziare. Quindi il messaggio che voglio lasciarvi è solo uno. Iniziate, fotografate per il puro piacere di creare, per sperimentare e per crescere. Però è importante che non pensiate mai che io, o chiunque altro, siamo la soluzione a tutti quanti i problemi e che possediamo una formula segreta per il successo come street photographer. Chiunque vi dirà il contrario, vi sta semplicemente prendendo per il culo. Ciao e alla prossima settimana.